Il lancio di Nagatomo per Riccardi, partito in posizione regolare, finisce a terra, attenzione, e viene assegnato il calcio di rigore subito dall'arbitro. Si parte, va Mauro Riccardi con il destro, pallone in rete, Inter già in vantaggio, sesto minuto, Inter 1-0 con Mauro Riccardi su rigore. A destra ancora per Perisic, rivuole il pallone Candreva, Perisic prova il cross e c'è sempre lui, Mauro Riccardi, che fa 2-0 per l'Inter al quindicesimo, 2-0. E questo è un gol incredibile, straordinario. Fuori per Candreva, rinuncia al cross di prima, lo prova lui, Tomovic sorpreso, Perisic, Perisic ed è 3-0, forse nel miglior momento della Fiorentina, 79-3-0. Fuori per Candreva, rinuncia al cross di prima, lo prova lui, Tomovic sorpreso, Perisic, 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 Perisic. birds oficiles, Perisic, 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 controlli, Marma pantal recipe, Sanneatina, Caucasna, Gerr捕.